Buonasera a tutti, bentrovati. Buonasera soprattutto alla signora Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Io sono Marco Tarquino, direttore di Avvenire. Qualcuno mi conoscerà, ma molti conoscono Luciana Lamorgese. Io ho avuto modo di conoscerla da lontano, nell'arco del suo lungo servizio. Parlando di una signora, dire gran con me, sembrerebbe qualcosa di troppo maschile, forse. Sì, Servan si può dire bene, insomma. Tanto più nel ruolo che sta esercitando adesso, da ultimo l'ho incontrata da prefetto di Milano, che è stato l'ultimo servizio reso prima della chiamata a reggere il Ministero, che sintetizziamo nell'immagine del colle su cui sorge la sua sede, il Viminale. E Luciana Lamorgese, quindi, è una donna al servizio della Repubblica. Oggi è parte del Governo, qualcuno la considera il Ministro Tecnico, l'unico vero Ministro Tecnico di questo Governo, forse insieme al Professor Manfredi, in questo momento all'Università. Io non ho difficoltà a dire che da direttore di Avvenire, all'atto della sua nomina, l'ho salutata con un unitoriale caloroso. Non sono qui per questo stasera. Abbiamo franche convergenze e franchi dissidi, come è giusto che sia fra Libera Stampa e il libero Governo di un Paese, che risponde al Parlamento, oltre che confrontarsi con l'opinione pubblica. L'ho salutata con grande... lo dico subito, così metto in chiaro questo, dopo che ci affronteremo fra domande e risposte, perché ha portato al Viminale qualcosa che per me è fondamentale da cittadino, più ancora che da cronista. Non voglio far polemiche, quindi non dico ha riportato, dico che l'ha portato. Il Ministro dell'Interno è il garante della libertà di tutti, amici e avversari. Ed è molto importante che questo venga percepito in maniera netta, in maniera nitida. Luciano Aramogese è capace di farlo. E io le dico grazie per questo. Poi da cronista comincio con le domande. Siamo nel tempo, signor Ministro, del tempo del coronavirus. Il Ministro dell'Interno è in qualche modo grado al generale Covid per quello che ha fatto nei confronti dei crimini, della bilancia dei crimini nel nostro Paese. Io guardavo le statistiche del mese di marzo, è impressionante vedere come i furti si erano diminuiti del 67,4%, quelli in casa addirittura del 72,5%. La gente era chiusa in casa, si andavano a rubare ancora in casa massicciamente sarebbe stato veramente quasi incredibile. Gli scippi idem del 76% quasi, le violenze sessuali del 69%. Qui forse c'è da sperare che tutti abbiano denunciato, perché a volte sappiamo che un grande problema è questo. E' chiaro che questo non è lo specchio reale del Paese. Però c'è un dato che mi ha colpito molto, che i crimini ad esempio che riguardano lo spazio, più di tutto l'importazione, lo spazio della droga, sono rimasti con un'incidenza significativa, che vuol dire che la grande criminalità che in quel business così ricco continua a tenere, ha funzionato anche nel tempo della pandemia. Lei come l'ha vissuto questo periodo dal suo punto di vista? Ha detto cose molto importanti e belle in diversi passaggi, anche sugli italiani, ma poi sentiamo piano piano, non voglio farla lunga. Questo quadro che le ho fatto, la gratitudine è un'immagine provocatoria che le consegno. Devo dire che durante il periodo del lockdown è stato un periodo molto impegnativo, molto impegnativo perché è vero, come dice lei, che l'andamento della criminalità abbiamo avuto dei livelli che in altri momenti della storia è pressoché impossibile perché meno il 67% è notevole. Però alcuni reati hanno per esempio visto un aumento, sono le violenze in casa, perché anche il fatto di stare in casa obbligati, chiusi, abbiamo avuto un aumento di questa tipologia di reato e noi siamo intervenuti come Ministero dell'Interno dando le possibilità anche a coloro che, alle donne o anche ragazzi che casomai erano vittime di violenza da parte di uno dei genitori, abbiamo dato la possibilità di collegarsi direttamente con il telefonino, con un'app e immediatamente la segnalazione arrivava all'ufficio della Questura e quindi al commissariato più vicino. Questo ci è servito molto perché abbiamo dato un po' una sicurezza in più a persone fragili, deboli, in un periodo particolarmente difficile per tutti gli italiani. Poi certo i controlli sono stati tanti e un ringraziamento è dovuto a tutte le forze di polizia che hanno operato in questo periodo in maniera professionale ma anche con grande umanità e quindi spiegando il perché non si poteva... Perché noi diciamo la verità, all'inizio è stato un pochetto sottovalutata, sottostimata questa epidemia che incombeva su di noi e quindi la gente era abituata a uscire e ha continuato a uscire fino a quando poi ha capito e noi anche con tanti messaggi come governo ed io personalmente più volte sono intervenuta sull'argomento proprio per cercare di far capire anche e soprattutto ai giovani che non ci può essere un polizzotto dietro ognuno di noi, il miglior controllore e siamo noi stessi, di noi stessi, del nostro comportamento e quindi che bisogna essere responsabili. Questo senso di responsabilità, come diceva lei prima, direttore, in effetti poi gli italiani l'hanno avuto perché nel tempo si è verificato quello che noi auspicavamo. Dal punto di vista del Ministro dell'Interno la decisione del Governo di dare una regola univoca su tutto il territorio nazionale è stata una scelta appropriata io so che lei l'ha condivisa, questo lo so già però si sono riaccese un po' di polemiche dopo la pubblicazione dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico e quando è balenata la possibilità effettiva secondo i tecnici poi la decisione doveva essere politica, giustamente io dirigo un giornale che il primo giorno della crisi ha pubblicato in prima pagina un'editoriale un signore si chiama Walter Ricciardi che poi ha collaborato strettamente col Governo che è un nostro editorialista che diceva che scienza e politica cooperano strettamente però il Governo si è assunto le responsabilità dare una regola univoca dal suo punto di vista? Guardi, io dico che parlare oggi con il seno di poi è facile per tutti perché bisogna trovarsi in quei momenti in cui noi abbiamo avuto segnali di un'epidemia che stava avanzando noi siamo stato il primo Paese toccato in maniera pesante e io ricordo ancora una telefonata che mi fece il Ministro dell'Interno tedesco Sehofer che mi chiese come noi ci eravamo regolati in Italia e quando io dissi le varie misure che erano state adottate lui chiuso la telefonata dicendo faremo allora anche noi come voi quindi evidentemente il nostro comportamento come Governo poi ovviamente ci sono il Presidente del Consiglio il Ministro della Salute anche supportati dal Comitato Tecnico Scientifico quindi sono state valutazioni evidentemente ponderate quindi ritengo che anche la scelta fatta sia stata fatta al momento perché ritenuta in quel fattispecie, in quel frangente la soluzione più idonea Vorrei tornare un momento su un'espressione che lei ha usato riferendosi ai giovani dicendo ai giovani devo dare prova di particolare responsabilità in queste ore sulle pagine dei giornali in questi giorni c'è una particolare attenzione al mondo giovanile anche perché lo dico con i numeri siamo passati da una percentuale di contagiati tra i nostri concittadini più giovani che non arrivava al 5% era ampiamente sotto a oltre il 13% nel giro di pochi giorni perché molte persone soprattutto tornando da vacanze dall'estero sono tornati con il contagio da Covid-19 intende dire qualcosa di loro in maniera specifica? Sì ai giovani bisogna dire che dobbiamo stare attenti perché la responsabilità che fino ad ora ha contraddistinto i nostri comportamenti deve rimanere, proseguire cioè noi dobbiamo comportarci nello stesso modo non pensando che tutto sia passato e che ormai siamo in una fase dove possiamo non mantenere più il distanziamento o la mascherina le regole vanno comunque osservate ora più che mai perché stiamo vedendo anche che lentamente anche il numero dei decessi sta scendendo quindi vuol dire stiamo uscendo però poi quando poi vedo che la curva ricomincia anche se lentamente a salire per quanto riguarda i contagi allora dico stiamo attenti perché dobbiamo essere pronti anche ad affrontare come l'autunno quindi dobbiamo essere assolutamente responsabili nei nostri comportamenti quindi anche quando vanno fuori al mare a divertirsi pensando che ormai si possa fare a meno di determinate precauzioni è sbagliato ecco quindi stiamoci attenti tutti Lei citava poco fa il ministro dell'interno tedesco e di queste ore il ringraziamento dell'OMS che ha indicato l'Italia insieme alla Francia e alla Germania ai paesi che hanno adottato misure più efficaci l'Italia è stato il modello come ha ricordato giustamente anche per altri paesi certo la difficoltà è grande sulle pagine di avvenire ormai da una dozzina di giorni ho chiesto ai miei colleghi di sviluppare lo stanno facendo con molta efficacia un'inchiesta in profondità nelle diverse realtà italiane realtà urbane e anche periferiche per descrivere quella che abbiamo chiamato la pandemia sociale lei se ne è già occupata in diverse occasioni e ha cominciato a cogliere il problema che anche noi vediamo da giornalisti nel nostro paese c'è un processo di impoverimento ulteriore legato alle conseguenze sociali ed economiche della pandemia da coronavirus che sta colpendo almeno un milione di altre famiglie oltre a quelle che erano già sotto la soglia della povertà assoluta e tanti altri che per il momento sono fatti salvi dalle misure straordinarie che il governo ha messo in campo penso alla cassa integrazione in deroga alle altre misure anche al controverso un assai controverso di vieto di licenziamento chi la vede in un modo chi in un altro però intanto sappiamo che il 17 d'agosto non sarà una data di tregenda in cui scadevano tutta una serie di misure di ammortizzamento che è importante però l'autunno lei lo evocava poco fa in riferimento alla possibile seconda ondata pensiamo dal punto di vista sociale dal punto di vista sanitario ricordo che un'intervista al mio giornale Galli del Sacco di Milano ha detto non so se il virus è davvero più debole so che noi siamo molto più forti perché abbiamo strumenti per combatterlo in profondità dal punto di vista terapeutico clinico abbiamo protocolli giusti dal punto di vista sociale abbiamo i protocolli giusti guardi io questa è una questione che sto affrontando da più giorni quando forse nessuno ne parlava ma la mia preoccupazione era proprio questa tant'è che io come saprai il 15 il giorno di ferragosto si fa sempre il comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica io quest'anno lo farò a Milano perché ritengo che Milano sia rappresente un poco la parte più produttiva d'Italia e il rischio è proprio quello che la povertà purtroppo si fa strada le aziende in difficoltà il rischio delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nelle attività quotidiane anche con il rischio di usura il rischio delle estorsioni e questo io lo vedo anche dal comitato di solidarietà che abbiamo noi presso il ministero dell'interno noi abbiamo fatto il comitato di solidarietà ha fatto soltanto dal mese di luglio in poi 27 sedute erogando circa 15 milioni di euro quindi divisi tra estorsioni e usura quindi vuol dire che quello che avevo paventato sono molto severe assolutamente pensi che nei mesi scorsi tanto per fare un confronto erano stati dati dal gennaio a marzo 4 milioni invece ora noi abbiamo dato in un mese e mezzo 15 milioni proprio per dare diciamo un supporto a chi è in difficoltà e per evitare poi che nelle attività produttive vadano ad inserirsi quelle che sono le organizzazioni criminali quindi rendendo non più legale anche il circuito delle risorse secondo me noi dobbiamo stare molto attenti in questo ma devo dire su questo che anche il governo ha operato bene perché abbiamo fatto tante di quelle iniziative normative prevedendo anche la tradizione strumento specifico per l'antiusura ulteriore esatto esatto dando delle risorse chiedevamo da anni per cui siamo contenti di averlo potuto registrare esatto e d'altra parte anche aver dato tutte queste risorse a chi si trovava in difficoltà poi abbiamo previsto anche la possibilità di fare controlli ovviamente antimafia in modo che le risorse devono sempre finire nelle mani giuste non che ci sia qualcuno che si insinua e poi utilizza queste risorse per fini non leciti quindi abbiamo fatto dei protocolli di legalità con SACE con l'agenzia delle entrate quindi stiamo lavorando perché riteniamo che sia importante che le risorse arrivino subito ma non facendo venire meno i controlli antimafia quindi lei ha toccato un punto cruciale che è quello del contrasto a coloro che si possono avvantaggiare della debolezza di altri sappiamo che le mafie hanno colonizzato tanta parte del nostro paese giocando sulle difficoltà di poveri e ricchi perché una parte della colonizzazione malavitosa passa attraverso il cappio che viene stretto intorno ad attività imprenditoriali di rilievo ed altro cosa che per tanto tempo si è negata fino a che non è diventata così manifesta persino a Lombardia dove a sede il mio giornale a Milano quella capitale di cui parlava però ripartire lei ministro dell'interno dicevo prima per rapporto con i suoi colleghi anche a uno sguardo internazionale inevitabilmente qualche polemica c'è sul fatto che il ministro dell'interno partecipa un po' alla politica estra del paese ormai anche per il motivo per questi motivi del contrasto se non altro al crimine che è globale ormai lo sappiamo bene dalle mafie cinesi a quelle sudamericane dalle russe al confronto purtroppo con le altre gang di importazione che arrivano al sud del mondo ne vediamo di tutti i colori ma al di là di questo c'è un'altra lezione più generale che viene da questa crisi se anche l'Italia per miracolo oltre che per disciplina si sanificasse tutta e ritornasse a produrre a pieno regime e non ci fossero tensioni di nessun tipo né delle preoccupazioni se anche la Francia la Germania la Gran Bretagna che è fuori dall'Unione Europea gli Stati Uniti d'America il mondo in generale non ritornerà a quote decenti nessuno potrà dirsi salvo secondo lei questo è un messaggio che è passato nella testa della gente io dico che sicuramente la vedo allo stesso modo nel senso che l'Europa funziona se siamo questo in tutti i campi perché so che poi toccheremo anche altri argomenti ne sono certa però l'Europa funziona se c'è poi un'unità di intenti se tutti andiamo con lo stesso passo davanti tant'è che io l'altro giorno proprio la scorsa settimana è venuto da me il nuovo ministro francese e proprio di questo parlavamo perché anche loro hanno grandi difficoltà nel loro paese quindi dobbiamo lavorare insieme ed è per questo che i rapporti a livello internazionale necessariamente devono essere tenuti perché poi ognuno ha i suoi ambiti di competenza ma io con i miei colleghi ministri dell'interno europei ho rapporti molto stretti perché penso che la politica comune su tanti temi possa aiutare anche il nostro paese le dico due numeri e poi le suggeriscono Italia PIL quindi la produzione di ricchezza del nostro paese in questa prima parte dell'anno nel primo semestre meno 17% Italia ha scelto la linea del rigore della grande disciplina di fronte alla pandemia Stati Uniti d'America che hanno scelto la linea dell'ognuno fa da sé a macchia di lopardo PIL primo semestre meno 33% le consegno questi due numeri traga lei se vuole la morale allora vuol dire che abbiamo fatto bene noi come paese perché se anche siamo a meno 17% che è durissima però dobbiamo anche confrontarci con gli altri paesi io non credo che nessuno sia meglio di noi dell'Italia però io poi ho anche l'idea perché è il mio carattere vedo sempre il bicchiere mezzo pieno anziché vedere il bicchiere mezzo vuoto quindi io ritengo che è passato questo momento lavorando tutti quanti insieme con i paesi europei per riprendere le nostre diciamo le nostre progettualità anche ora per esempio che abbiamo il recovery fund stiamo facendo progetti tutte le amministrazioni si stanno mettendo in campo per portare dei progetti concreti e noi come Ministero dell'Interno senza progetti non arriveranno esatto e devo dire che noi abbiamo fatto un ottimo lavoro e stasera io ho già mandato tutti i miei progetti fatti dal Ministero dell'Interno in vari campi dal campo della pubblica sicurezza dei vigili del fuoco enti locali anche come supporto agli enti locali quindi stiamo cercando di operare su vari fronti e ritengo che ecco lavorare in maniera con responsabilità con con impegno poi alla fine il tutto si vede alla fine di un percorso cioè se vogliamo vedere oggi è certo non stiamo bene come eravamo all'inizio dell'anno però forse stiamo un po' meglio di come eravamo due mesi fa quindi vediamo un poco fare oggi un progetto futuro fino alla fine dell'anno io spero che la situazione migliorerà che anche la parte dell'occupazione perché quello che vedo sono i giovani i giovani che si trovano in difficoltà perché quando poi si perde il lavoro non si non si ha esattamente l'idea di quello che la società ti può dare ci può essere anche un senso di demotivazione e in quello noi come governo secondo me abbiamo un grande senso di responsabilità io parlo sempre dei giovani perché secondo me loro rappresentano il nostro futuro e se noi come governo non diamo un'attenzione particolare a questa categoria secondo me abbiamo fallito molto vero che cosa ha pensato quando ha sentito il presidente del consiglio europeo Michel di Belga dire che questo recovery fund è piano complessivo non piano marcio bisogna chiamarlo piano de gasperi io ho pensato che poteva dire quello che voleva però noi alla fine piano de gasperi voglio dire poteva dire quello che voleva è come se loro non ci hanno regalato nulla perché io credo che noi saremo io ho preso un omaggio ecco io quello penso loro non so con che tono l'abbia detto se è in senso positivo allora devo dire che è giusto perché l'Italia e noi lo sappiamo quando siamo nei momenti di difficoltà tiriamo sempre il meglio di noi fuori io sono sicura che riusciremo a dare il meglio di noi anche più di quello che i paesi europei si aspettano da noi che vedono sempre che l'Italia come se fossimo un paese che all'ultimo momento cerca di recuperare però questa volta secondo me noi si meraviglieranno anche loro di quello che noi riusciremo a fare allora le faccio l'altra domanda quando ha sentito l'olandese il ministro del governo è quello quello devo dire io pensavo soprattutto a quello perché Michelle aveva detto che De Gasperi però diciamo che non c'era una grande ministro olandese ha detto che in Italia avevamo molto avuto molto da fare a bere a correre dietro negativo però c'è anche da dire che all'inizio non c'era nei nostri confronti come paese un po' da parte di tutti un orientamento assolutamente particolarmente favorevole ritenendo che essendo noi un paese che abbiamo un debito molto alto volessimo ulteriormente indebitarci ma noi questa volta come gli altri paesi più degli altri paesi daremo prova di quello che noi siamo in grado di fare noi come paese lo siamo quindi questa ne sono certa perché le misure d'emergenza che il governo di cui fa parte ha assunto per 100 miliardi a oggi sono sulle spalle delle prossime generazioni perché sono maggior deficit esattamente è una consapevolezza che mi fa piacere sentire le parole del ministro diceva poco fa che che l'Europa potrebbe essere benevola ha cambiato passo nei confronti dell'Italia ci sono tanti dossier aperti e arriviamo a uno che il giornale che dirigo tiene sempre molta evidenza che è quello della presenza o dell'arrivo nel nostro paese di persone e di cittadini d'origine straniera intanto quanti ne sono arrivati e quanti sono ammalati di covid-19 fra quelli arrivati circa nell'ultime settimane 14 mila dall'inizio dell'anno però diciamo che il numero che ha fatto alzare la sticella è quello che deriva dal mese di luglio quando c'è stata una grandissima crisi non soltanto politica ma economica fortissima in Tunisia e quindi questo ha determinato che anche persone diciamo che in altri tempi non avrebbero mai pensato di abbandonare il proprio paese si sono avventurati verso le nostre coste 6.900 in pochissimo tempo è stato un devo dire un grandissimo impegno come amministrazione perché ecco lo dicevamo siamo in tempo di covid e quindi organizzare tutto per evitare che ci siano diciamo contaminazioni e quindi per cercare di isolare che loro sono positivi tenendo presente che tante volte le collettività non non li accettano le comunità che fossero non fossero contagiati perché in realtà una percentuale diciamo che il covid rende ancora più complicato questo sicuramente i tamponi sono in corso per queste persone allora io ho preteso che a Lampedusa che devo dire una grande isola un grande sindaco che nonostante ha avuto la pressione maggiore e così la Sicilia devo dire che è la regione che più di tutte ha avuto diciamo l'impegno di gestire una situazione così complessa perché ripeto le altre regioni le altre comunità con molta difficoltà abbiamo sperimentato in Italia quello che a volte sperimentiamo a livello europeo con molta difficoltà secondo me dovuto proprio al fatto del covid al fatto della quarantena perché noi li teniamo in quarantena giustamente io ho preteso a questo punto che si facessero i tamponi a Lampedusa e con la regione Sicilia siamo riusciti perché Lampedusa è una piccola isola quindi non ha neanche la possibilità di poter operare a quei ritmi e fare i tamponi quindi all'inizio si faceva il test seriologico ma poi che ha dimostrato poi alla fine che quando poi venivano tamponati quello che era negativo casomai diventava positivo col tampone e quindi a questo punto stiamo facendo i tamponi a tutti e tramite la regione Sicilia lo facciamo abbiamo iniziato a farlo anche a Lampedusa in modo da avere la garanzia poi di quelli che si spostano che possono tranquillamente andare negli altri diciamo nelle strutture dedicate è una matassa difficile da sciogliere per le paure che ci sono le resistenze dicevo con una battuta prima quello che a volte abbiamo sperimentato con alcuni stati europei a livello dell'unione l'abbiamo riprovato all'interno nei rapporti tra regioni tra territori della stessa repubblica italiana la collaborazione con i partner nella gestione lei è stata protagonista di un accordo importante raggiunto a Malta che riguarda se non vado errato la gestione delle persone che vengono salvate da azioni delle navi ufficiali dei paesi impegnati nel pattugliamento del Mediterraneo di navi mercantili o da navi umanitarie quelle cosiddette navi dell'ONG il fatto che è accaduto con Lampedusa e sono arrivati tanti cosiddetti sbacchi spontanei che sono fuori dal raggio di quell'intesa ma poi non sono i barchini sono sempre arrivati ma anche dell'intesa con gli altri partner europei e da rinegoziare tutto paradosso se le persone vengono salvate da una nave della guardia costiera o da una nave umanitaria c'è l'accordo che scatta con gli altri paesi volenterosi europei che prima erano di più per un periodo diciamo storico è stato un numero adesso in questa fase c'è da rinegoziare l'accordo e qui le scelgo la parola e le spieghi lo stato dell'arte allora innanzitutto l'accordo di Malta è stato un accordo molto positivo a mio modo di vedere che se ne dica perché bisogna spiegarlo prima chi arrivava nel nostro paese non aveva praticamente rimaneva nel nostro paese poi venivano fatti collochi con gli altri paesi per la relocation in Europa e soltanto alla fine dopo che venivano portati davanti alle commissioni territoriali coloro che erano riconosciuti avendo il titolo di protezione internazionale venivano distribuiti in Europa diciamo che questo sistema a mio modo di vedere non andava bene perché coloro che sono riconosciuti titolari di protezione internazionale alla fine dei vari colloqui è un numero davvero diciamo un 20% rispetto totale e quindi diciamo che tutte le procedure gravavano sull'Italia con l'accordo di Malta siamo arrivati ad accordarci con gli altri stati che appena arrivavano venivano distribuiti direttamente questa è stata la vera novità e poi ogni stato faceva acclarava si acclarava cioè faceva con le proprie commissioni territoriali con i propri sistemi individuava se avevano titolo o non avevano titolo e quindi poi procedevano ai rimpatri invece prima i rimpatri erano tutti a carico dell'Italia con la difficoltà ovviamente di avere tutti i paesi riceventi disponibili a fare un accorto per il rimpatrio cosa che in questo momento sono pochi i paesi con i quali noi possiamo procedere ed è per questo che io anche in Europa ho chiesto di fare un accordo europeo per i rimpatri in modo tale che di avere una maggiore forza anche gli altri paesi laddove arrivano i migranti a seguito della relocation i singoli paesi europei si sentono più forti sapendo che se non hanno titolo in base a questo accordo europeo li possono distribuire quindi questo è un processo che sta andando avanti per esempio la Tunisia l'era menzionata ha detto qual è la situazione del paese spiegando questa fiammata di arrivi da dallo stato nordafricano che è una crisi molto grave ed è un paese molto importante per la Tunisia anche un peccato che si depauperi di gente fra l'altro che non è la più povera perché possono pagarsi il passaggio molti hanno fatto ironia sulla famiglia che è arrivata col barboncino qualche politico non ha detto che tutti questi signori non vogliono fermarsi in Italia ma vogliono andare in Francia considerano l'Italia un punto di passaggio nella loro perigrazione perché vogliono raggiungere il paese in cui parla la lingua alle cui scuole sono formate e via dicendo questa è un'altra delle questioni l'Istat ogni anno fotografa la situazione del dare avere in termini di persone nel nostro paese l'Italia è un paese di emigrazione sempre di più sia da parte dei figli di italiani per tradizione ma anche da parte di figli di italiani per scelta quelli degli stranieri che sono venuti a vivere da noi sono già protagonisti di una seconda emigrazione è un grande problema politico la desiderabilità del paese questa non è materia sua direttamente ma fra gli elementi che condurano a spingere le persone a non avere la spinta per rimanere là dove sono nato dove si sono radicate è anche la sensazione della sicurezza complessiva lei sente questa parte della responsabilità immagino in questo sentimento sì chi è che si allontana per affrontare questi viaggi che dove può capitare che è capitato purtroppo di perdere la vita parlavo dall'Italia verso il resto del mondo quindi no io voglio dire un'altra cosa volevo dire che chi si allontana dal proprio paese per arrivare in Italia lo fa perché pensa di trovare una vita migliore rispetto a quella che lascia nel paese di provenienza per l'Italia è un po' diverso perché noi riteniamo di essere il più bel paese però dove si sta meglio dove però secondo me il fatto che molti soprattutto giovani tendono ad andare fuori è perché evidentemente hanno migliori opportunità di lavoro forse in alcuni casi vale anche più la meritocrazia e quindi si hanno delle prospettive lavorative e di carriera che possono sembrare migliori di quelle che hanno in Italia dove vediamo che purtroppo i ragazzi quando vengono assunti vengono assunti sempre anche laureati a un livello diciamo iniziale anche con esperienze questo fa sì che poi diciamo chi ha una grande motivazione tende a uscire dai confini nazionali a sperimentarsi tante volte con successo e allora questo dovremmo chiederci noi come paese se hanno successo fuori perché non farli tornare e utilizzarli noi al meglio visto che abbiamo una società che sta invecchiando e abbiamo bisogno di coloro che invece ci portano avanti insomma questo è quello che dicevo prima che come governo se non pensiamo a questo ai ragazzi secondo me abbiamo una visione ristretta perché la vita quotidiana è fatta sì di tante di tante iniziative parlo a livello governativo però secondo me bisogna metterci ancora più impegno su questo che insomma mi pare un po' come secondo non è materia sua diretta però è un tema che le sta molto a cuore penso che abbia condiviso profondamente allora il family act che il governo ha avviato assolutamente sì e che effetto l'ha fatto vedere lei non è mai stata parlamentare diciamo in altri modi da servito alla repubblica la nostra comunità nazionale da prefetto appunto vedere uno schieramento trasversale così ampio votare dopo tanti anni di chiacchiere per l'assegno unico per ogni figlio nel nostro paese poi bisogna metterci i fondi sappiamo che mancano almeno 7 miliardi dico finalmente c'è un accordo è un accordo trasversale questo è molto positivo perché vuol dire che delle cose insieme si possono fare quando ci sta un sentimento comune che è un sentimento che fa bene alla nostra società quindi bisognerebbe forse dividersi di meno e cercare di trovare degli argomenti comuni e l'andare avanti insieme probabilmente sarebbe più utile lei spera che ci sia brava buona risposta può accadere persino nel nostro paese se si riesca a fare una cosa di comune accordo poi bisogna metterci i soldi e questo sarà l'impegno di tutti i governi che si succederanno negli anni a venire di volta in volta dicevo che una maggioranza trasversale di questo tipo sarebbe bello sognarla ma lei pensa si solidificherà una buona maggioranza parlamentare comunque per la revisione dei decreti cosiddetti Salvini lo dico chiaro io li chiamo decreti in sicurezza per quello che hanno prodotto con una parte di quelle norme so che lei ha un'intenzione molto savia che è quella di separare la questione della sicurezza dalla questione dell'immigrazione quindi avranno un altro nome adesso le consegno la possibilità di rispondere senza dire un'altra cosa spiegare perché le ho chiamati più volte io e altri commentatori nel mio giornale decreti in sicurezza perché hanno creato più in sicurezza mettendo persone in mezzo alla strada e la battezzata la legge della strada all'inizio questa vicenda con un titolo in prima pagina da venire perché persone che erano dentro un sistema di graduale inclusione controllate all'improvviso sono state messe imprenditoria tutti quelli che fanno le cose nell'ombra contro gli onesti che lavorano dentro le regole che ci siamo date con civiltà e tutelando la vita di tutti la sicurezza di tutti decreto immigrazione allora si chiamerà ci sarà una buona maggioranza e a che punto è il lavoro soprattutto il lavoro è chiuso il lavoro abbiamo sì abbiamo fatto un tavolo ci assicura stasera che il lavoro è sostanzialmente il lavoro è chiuso adesso sto aspettando il parere del dell'Anci perché volevo vedere sul sistema di accoglienza sull'associazione dei comuni ecco sull'associazione dei comuni perché cambia un po' il sistema di accoglienza e quindi è giusto sentire poi i comuni che sono quelli che dovranno operare su questo fronte perché parliamo appunto dei centri di accoglienza che dovranno essere gestiti dai comuni quello che una volta era lo Sprar quindi il lavoro per quanto mi riguarda avendo fatto il tavolo con tutti i vari partiti di maggioranza è andato io spero che prima di Ferragosto di poterlo mandare poi a Palazzo Chigi e quindi poi vedremo l'iter se ne parlerà a settembre come si è detto un doppio impegno a Ferragosto per lei a Milano un incontro con la stampa presentando il Presidente del Consiglio e fa un regalino appunto per Ferragosto la conclusione del lavoro diciamo che l'obiettivo era quello di arrivare per agosto alla chiusura e la cosa importante è aver chiuso con la maggioranza e aver trovato un testo condiviso qualcosa nel merito il Presidente della Repubblica sorriderà visto che ha fatto delle obiezioni di merito sì sì noi ovviamente noi abbiamo preso diciamo tutte le osservazioni che erano state formulate dalla Presidenza della Repubblica vogliamo ricordarle come vuole lei e poi abbiamo siamo andati oltre perché abbiamo modificato anche il sistema di accoglienza prevedendo che anche coloro che sono richiedenti asilo entrino in un circuito diciamo di accoglienza come identico a quello oggi riservato ai titolari di protezione ritornando un poco come era prima ecco quindi c'erano state anche delle sentenze fra l'altro dell'autorità giudiziale poi della consulta sul tema dell'anagrafe sì sì ma noi l'avamo già modificato però quindi ci rafforza ulteriormente ma era una linea che già avevamo adottato quindi questo vi conforta nel lavoro che avete intrapreso dal punto di vista della sicurezza sempre del nostro paese i rapporti tra le forze di polizia come li definirebbero in questo momento in Italia collaborazione di condivisione anche di strategie quindi sono pienamente soddisfatta perché io ho sempre detto che le nostre forze di polizia sono le migliori che ci sono anche confrontando con gli altri paesi europei quindi credo che possiamo stare tranquilli ha avuto parole di solidarietà e di chiarezza ferme e solidali al tempo stesso anche di fronte a casi di cronaca che hanno sconcertato l'opinione pubblica che da ultimo hanno colpito soprattutto l'arma dei carabinieri ma anche in altri momenti hanno sappiamo bene purtroppo questo credo che sia importante io dico sempre che chi ecco nel caso dei carabinieri come è capitato ovviamente può capitare ma quando abbiamo un corpo con centomila persone il comportamento di un due tre quattro quelli che siano non può che sono da considerare assolutamente al di fuori delle regole che anzi diciamo disonorano la divisa che indossano però quello non può penalizzare un corpo intero che invece lavora con grande spirito di abnegazione di professionalità a servizio della comunità quindi bisogna tenere distinto e su questo dobbiamo essere ben decisi fuori quelli che sono fuori le regole che sono veramente da biasimare perché vuol dire che hanno perso qualunque senso morale cioè per chi arriva a fare ad avere quei comportamenti vuol dire che non si rende neanche più conto quindi davvero fuori però tenendo sempre presente che le forze di polizia nella loro complessità rappresentano un punto di riferimento per tutti noi questa è una cosa che sottolineano anche i sondaggi che anno dopo anno le pongono al vertice nella fiducia degli italiani ha detto il caso di alcune persone si comportano male non deve gettare un'ombra su tutta una categoria in queste ore uno dei casi lei non è parlamentare quindi è fuori dalla mischia diciamo anche in questo senso però uno dei casi clamorosi è stato questo caso di cinque parlamentari che a quanto pare oltre a prendere l'indennità hanno preso di carica hanno come dire ho soffluito anche delle misure straordinarie i 600 euro famosi che il governo ha messo a disposizione si dovrebbero soltanto vergognare di voi davvero non mi ha fatto neanche finire la domanda quindi diciamo ha interpretato anche un sentimento diffuso però questo per seguire il suo ragionamento il grande rischio è che diventi un'altra arma per parlare sempre di tutta la classe una cosa lo dico da osservatore da cronista quale sono tocca anche ai ministri a volte questo qualunque persona qualunque mestiere faccia che sia un imprenditore un professore universitario una maestra un medico nel momento in cui entra in Parlamento o entra al governo non è più quello che era diventa una parte della casta dobbiamo sapere credo avere occhi per capire che bisogna distinguere sempre bisogna avere molta attenzione rendersi conto che i comportamenti non sono tutti uguali che ognuno ha una propria personalità e quindi tenere ben distinte le questioni questa è l'esperienza della sua vita anche girando l'Italia per garantire la sicurezza dei diversi bene ci stiamo avviando l'ultima parte dell'intervista e io vorrei tornare su un tema che abbiamo già toccato lei ha evocato le misure di sicurezza che sono state garantite i tamponi rispetto voglio tornare su questa questione dei nuovi arrivati in Italia in condizioni di emergenza perché come dicevo prima è stata fatta molta confusione come se fossero tutti ammalati in blocco di covid e fra l'altro non è così il rischio è di farli ammalare uno dei casi clamorosi di questi giorni è stato quello dei centri nei quali persone che erano qui da tempo e che lavoravano e si sono ammalate non in quanto appena arrivate ma perché erano qui in Italia e lavoravano e sono stati trattati come se fossero dei marziani infetti arrivati tra noi questo è un dato che bisogna sottolineare credo se parliamo della caserma quella di Treviso era gente stanziale non era gente che è arrivata ora e quindi gente stanziale che era nel centro d'accoglienza e che ovviamente autorizzata ad uscire quindi evidentemente si è contagiata alcuni facevano i rider esatto esatto avevano anche delle attività che svolgevano quindi questo è da precisare perché molti hanno pensato hanno ricollegato la questione della caserma agli ultimi arrivi invece assolutamente non c'entrano niente perché ripeto quelli non sono stati ancora distribuiti sul territorio con la battuta potremmo dire che dall'area di Schengen i turisti arrivano forse più a rischio la verità è che adesso io ho chiesto ho convocato il prefetto di Trieste per capire bene come perché in effetti se parliamo da 2 a 290 mi dicevano dalla prima relazione che mi ero fatta preparare che hanno avuto difficoltà a diciamo a separare quelli che man mano si positivizzavano perché diciamo c'era una specie di trovandosi dentro la caserma pensavano che fosse potessero gestirla insieme per evitare problemi neanche di carattere diciamo generale hanno li hanno cominciati a dividere ma evidentemente in ritardo rispetto al caso diciamo man mano quando si verificavano perché i tamponi li hanno fatti in un secondo momento senta so che ha gestito in prima persona la questione delle navi per la quarantena tutto il dossier l'ha voluto gestire in prima persona ha tenuto rapporti con i presidenti di regione ce l'ha già detto prima oggi si è concluso il bando per la seconda nave la prima è da mille posti giusto? la prima era da duemila posti però ovviamente con il covid sono posti limitati sì ma più di di 600 non possono quindi per adesso sono sulla nave 600 abbiamo un reparto covid sulla nave e quindi diciamo è abbastanza gestita anche se la nazionalità e che i tunisini sono un poco come popolo un poco agitati quindi tendono a stare molto insieme e quindi la difficoltà è quella di separarli comunque oggi si è conclusa l'altro bando e quindi una nave più piccola c'è anche antropologi insomma fare il messo all'interno oggi è un po' antropologi è complicato è molto complicato soprattutto in tempo covid davvero difficile e l'altra nave è una nave da 300 persone ma anche quella poi verrà dimensionata perché diciamo meno persone ci sono in questo per fortuna da una settimana non ne stanno arrivando e quindi migranti e quindi possiamo gestire un poco la questione con maggiore lucidità devo dire che è stato difficile quando sono arrivati tutti insieme trovare la sistemazione fare pensare i test le strutture dedicate è stato molto complicato a dirlo non sembra ma a farlo a gestire tutti insieme in un mese 6.000 senza che poi alla fine succedesse grande caos più a parole che nei fatti più a parole perché ovviamente poi tutto viene sempre strumentalizzato però è stata una gestione complicata ma mi pare che fino adesso è andata bene senta adesso le faccio una domanda un po' scomoda c'è chi le fa un applauso perché qualcuno contento che le cose siano andate per il verso giusto magari qualcuno voleva rimar conto ha mai avuto la sensazione che qualcuno rimasse conto questa è una domanda un po' cattiva che le faccio è cattivissima dove da che parte quello me lo deve dire lei diciamo ha mai avuto la sensazione tra coloro che devono aiutarla a risolvere le questioni no 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 si cerca insomma hanno dovuto alzare mai 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 la voce la voce un po' l'alzo perché è mio carattere che non l'alzi non c'è bisogno dice però però in questo caso diciamo che la competenza ovviamente è del ministero dell'interno e ne abbiamo parlato anche in consiglio dei ministri quindi c'è una condivisione anche delle scelte prese bene a proposito di condivisione delle scelte di equilibrio all'interno della compagia governativa che effetti ne hanno fatto le voci su rimpasti impastare rimpastare la politica italiana sembra guardi io non che dire non non mi appassiono a questo genere di di discussioni che appaiono sui giornali perché io sono un ministro tecnico quindi non è che sono attaccata dalla poltrona come può capitare ad altri io so che fare il ministro dell'interno è un ministero difficilissimo è un ministero dove non puoi raccontare chiacchiere là ci vogliono i fatti quindi questo io so che lavoro veramente tutta la giornata perché di problemi ce ne sono tanti ogni giorno ce ne sono diversi quindi con grande impegno devo dire che se dovesse succedere forse anche un poco più di serenità da vivere insomma la mia vita ce l'ho e non è posso ritornare a fare il consigliere di stato quindi non non ho problemi come possono avere altri quindi io fino a quando ci sono affronterò le questioni con lo stesso impegno che ho messo in tutta la mia vita professionale senza pensare a prospettive future perché il mio futuro io ce l'ho quindi si vedrà quello che succede va bene tutto beh poi ha un solido passato e un impegnativo presente no quello che io vorrei quello che che emergesse è che tutto il lavoro fatto dalla squadra riminale ecco questo non vorrei che venisse sottovalutato il lavoro svolto in questo quasi anno quasi compiuto ecco quindi solo questo per il resto va tutto bene bene allora io direi che a questo punto possiamo dire ad mai ora non ha maggiori problemi a meno problemi più problemi risolti e poi questa è l'opinione solo di un cronista fra tante parole che si sprecano per parlare delle donne nelle istituzioni e quanto siano importanti che ci siano e quanto siano una riserva di equilibrio di saggezza preziosa credo che stasera abbiamo avuto la dimostrazione che ci sono parole che non sono sprecate per dirlo grazie a Luciano Lamorgese grazie grazie a tutti dedicato grazie io chiamo un'altra signora però si chiama Maria Rita De Alessandris a nome della squadra di Caffeina perché vuole darle un altro omaggio abbiamo cominciato con l'omaggio della della Municipalità buonasera grazie Ministro innanzitutto per essere stata con noi è stato un onore averla su questo palco sul palco di Caffeina grazie veramente con tutto il cuore non le posso stringere la mano per ovvi motivi eccetera adesso ci devo rimettere anche nella mascherina beh io diciamocelo quasi di ordinanza ormai stando qua il nostro pensiero è questo questo pezzo che scusi fa parte della ceramica io lo stavo ammirando prima e ogni tanto quando il direttore D'Arminio mi faceva le domande mi distraevo guardando che non è un reperto etrusco ma direttore assolutamente ma fa parte di una collezione abbastanza preziosa perché rappresenta un pezzo della ceramica bianca della Tuscia e sono pezzi rari perché non li fa più nessuno se non gli antichi le antiche persone che fanno parte della nostra tradizione grazie davvero la ringrazio ancora per la sua presenza e volevo ringraziare anche suo marito perché è qui anche per questo sì anche qui e oggi non so dov'è ma insieme io ho un bel ricordo di suo marito perché ha salvato mio padre tanti anni ha fatto parte di una squadra che ha salvato mio padre quindi le squadre quando funzionano vanno bene ce l'ha dimostrato in questo in questo momento quindi dal gruppo Caffeina e anche da Gaetano Carramusa se è possibile fare una foto con lei perché il nostro è la persona che ci ha aiutato a mettere su tutta questa questa storia questo è un prezzo leggero da pagare grazie ministro è stato veramente un piacere e un onore grazie bene